Ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo e oggi siamo su Brawl Stars ho deciso di togliere l'audio perché giurimi dava troppo fastidio soprattutto perché qua non c'è l'opzione per abbassarlo ma semplicemente per toglierlo quindi piuttosto che tenermi con lo schifoli nell'orecchio ho deciso di toglierlo facciamo una partita voglio farvi vedere avevo già registrato un episodio ma siccome vista la troppa musica non si capiva niente e così ho deciso di rifarne uno perché così faccio le views no ma hanno ucciso mi hanno già ucciso no giuro raga che sono bravo che ci ho già raccontato un sacco di volte quindi se perdo ora mi incazzo come la bestia mi sa che la perdo questa o uno è morto di loro si ma io devo andare devo uccidere quell'utku lì che sennò ci dà un botto fastidio per quello lì si è camperato lì ci ammazza tutti dalla sua potenzioncina di merda ok l'ho ucciso perfetto adesso chi dei loro cia le gemme verrà punito a morte ho messo la rogo da me in persona ho ucciso uno e oh oh interesting mi uccide questo mi uccide lo so già lo so già che mi uccide ah ah ma ho ucciso no avevo un sacco di gemme no raga comunque vedete che ci sto mettendo un sacco di impegno ce la posso anche fare potete anche vincere questa partita eh ma l'ho ucciso ma raga sono tutti lì ci sono solo io gli altri non so che fine abbiamo fatto probabilmente sono camperati camperati genio scappa che c'hai tutte le gemme io non so perché stavo scappando dai ti difendo io ok ne ho ucciso uno e abbiamo vinto la prima partita è vinta ovviamente non sono il migliore ma vorrei anche vedere se questo è stato il migliore sarebbe stato fantastico ok esci voglio controllare se ho dei bauli giornalieri perché non ci gioco mai qua su Brawl Stars e quindi potrei anche non averci i bauli giornalieri vediamo il retroface sono 172 ci sta si perché questo qua il mio account è quello con cui gioco anche quando sono fuori se gioco perché non ci gioco quasi mai allora vediamo un attimo qua cosa c'è c'è il punto di energia di Shelly che è interessante nel video che dovevo mettere ma che poi non ho messo perché non si capisce niente ho portato Shelly al livello 4 e non ho bauli sbloccabili quindi quindi che ci posso fare questo qua manca poco brawler potenziabili ma non li voglio potenziare proviamo a fare un'altra partita ok io minchia c'è 4.140 di vita oh uno è morto oh con lo schifetto lì muori no non muore non è morto regà com'è possibile brutto schifo pezzente muori io ti ammazzo tu che c'hai Shelly non importa niente son morto io invece però una kill l'ho fatta regà cioè l'ho fatta che cazzo è un attimo e io un attimo tra tutti ah ma questi attaccano in massa così sono più forti e c'hanno ragione e faccio così mi ammazzo tutti niente non ho non gli ho fatto il solletico gli ho fatto il solletico non ammazzo neanche uno questa partita qua faccio veramente schifo no 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 questi qua c'hanno troppo c'hanno tutte le gemme no 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 non posso lasciarti vivere no neanche voi no le hanno recuperate tutte ci l'hanno di nuovo io la faccio l'azione kamikaze mi butto per riuscire a prendere le loro gemme mi hanno ucciso mi saranno vinto raga hanno vinto questa non posso più giocare ho perso mi dispiace ho perso questa partita la prossima è da meglio mi lagga mi lagga ah no la connessione ho un baule lo sblocchiamo lo vediamo quello ci troviamo dentro 24 monete punti di energia di pocio non mi interessa e punti di energia di shelly che invece mi interessano si sommano tutti gli altri con calma riuscirò ad avere tutti i punti di energia necessari per portare shelly al 5 che sarebbe una farona vediamo il club io sono nel club dei pischelletti ragazzi ok prova a fare un'ultima partita vediamo come come va avviso che io non sono un nerdino su sto gioco e quindi è facile che io perda proprio perché non ci gioco tanto mi hanno ucciso chi è che mi ha ucciso no ma c'è quello che lancia le bottiglie brutto infame e adesso come lo counteriamo shelly è l'anti coso l'anti shelly è l'anti tutto in realtà sfruttiamo le proprietà di shelly che sono tipo il cacciatore di clash royale quindi shelly in teoria da vicino fa più danno che da lontano praticamente su clash se voi mettete una truppa a fianco al cacciatore il cacciatore gli farà un danno che gli farà malissimo cioè non 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 sarà facile per niente e ovviamente come come me c'è anche l'altra gente che l'ha capita sta cosa c'è un camperino oh l'ho ucciso che che mi ucciso ma l'ho ucciso io ma siamo seri cioè non posso neanche stare tranquillo che l'ho ucciso perché potrebbe essere che mi uccide nello stesso momento cioè che mi uccide lui ma cos'è sta cosa no ragazzi mi si è bloccato come è possibile ma il resto il gioco è pieno di bug questo gioco è un bug secondo me è nato quello da un bug no mi hanno ucciso c'è avuto due gemme e la squadra rossa c'era i due gemme e sta facendo il conto alla rovescia minchia se riescono a vincere bestemmia forte mi hanno ucciso come faccio vitti gemme ci hanno questi e non vinco più vabbè ragazzi un poche parole questo questo è come va il gioco cioè boh io non capisco ancora come devo giocare comunque per oggi è tutto se il video è riuscito come al solito lasciate un commento mi piace io ho fatto un bel chest opening spero di riuscire a raccogliere 10 gettoni stelle per ricevere questa cassa qua e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti